Buonasera sono Sandro Cane da questa splendida location e se andiamo giù a vedere la bici eccola qua qua si vede meglio vedete benissimo che ho cambiato il portapacchi posteriore ho messo una borsa a sgancio rapido del libera sia il portapacchi che la borsa sono del libera poi ho cambiato le manopole guardate che belle le barchette la guarda che bello ho cambiato le manopole ho messo luce anteriore e posteriore e ho cambiato la sella fatemi sapere come si sembra adesso la grasshopper e vorrei cambiare anche i pedali ma erano troppo duri da togliere perché probabilmente il meccanico l'altra volta non gliene fregava niente non ha tirato niente di quello che doveva tirare e ha tirato a manetta le pedivelle ok i pedali adesso probabilmente torno là perché gli attrezzi c'è gli ho ma non riesco a toglierli e lui ha l'altro attrezzo per toglierli e li farò a togliere poi me li monto io i pedali come dico io e cercherò di non farmi montare più niente dell'ora perché è un disastro fatta questa cambierò il portapacchi davanti perché non è che mi piaccia molto e poi vediamo come va con il manovrio se no c'è la giorni un altro interessante pronto da mettere e con questo vi saluto da questo del panorama e ci vediamo il prossimo video ciao ciao mi raccomando iscrivetevi ovviamente